sono sulla calvana su monti della calvana cercare gli asparagi di bosco per ora ne ho trovato dei mazzi questi qui ora guardo per qui c'è un bosco tutto di ginestre e piante l'asparagina che è bruciato l'anno scorso che qui ci dovrebbero fare abbastanza infatti ho trovato tutti per qui ora continuo a guardare sono sopra la perce la frazione della perce di prato c'è un po di foschia se no di qui si vedrebbe Firenze la cupola del Duomo però c'è foschia qui vedo tre asparagi uno è questo questo qui due non si vede questi qui uno questo quattro cinque due tre quattro e uno cinque qui deve essere girato poca persona perché ce ne deve essere questo questo è il mio questo e qui se no ci succede più un altro questo qua è l'asparagina una ma c'è anche degli altri qui c'è uno pezzo due un altro fino tre ehi patente c'è quattro cinque sei sette otto nove e dieci una pianta ce n'era dieci ecco ecco qui non ci hanno girato adesso sparaci la pianta poi qua se ne degli altri un'altra pianta e altri due qui sbucano dall'erba dall'erbacce si vede l'altra volta l'altra volta erano più piccole si vedevano sbucavano dall'erba era sotto ora guardati qua qui c'è la pianta una pianta però lo vedo uno è qua eccolo che stupido uno qui ci sono diversi qui è parecchio ripido due tre ecco ci sono altri due quattro cinque tre sei e ci sono tanti sette otto nove ecco 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 una bella cacciata qui ora è ripido conviene andare su piano piano per vedere se ne trova altri ecco 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 un altro qui questo sono C'è tanto per l'asparaggio. Ecco l'asparaggio. C'è tanto per l'asparaggio. Sì, sono due. Uno, due e trega. Ecco. Qui si fa svelto a fare i mazzetti. Qui c'è tutte le ginestre bruciate. Qui c'è una bella pianta. Qui c'è una bella pianta. Ecco, vedete. Qui dentro. Due cinzoni. Una anche grossa. Sembra un ramo. Tre. Quattro. E cinque. Quattro. E un altro. Sei. No, c'è anche un altro. E sette. Ogni pianta c'è una bella pianta. Una volta ne ho trovati dieci. Quattro. Qui c'è una bella pianta. Allora. Così si dovrebbe vedere la fiducia. Parecchio ripida. Qua ci sono altre piante che dovrebbero essere altre, ecco ci sono due o tre qui. Una è questa, no questa l'hanno accolta, questa è una scena, questa l'ha accolta, questa l'ha un'altra bella spazia, sono due, una è questa, tre, questa, uno, due, e questa, e tre, tre sparati. L'acqua chieda, c'è la... Eccolo qui. Uno è questo. Un metro qui sotto. No, questo non è colto. Un'altra. Qui sotto c'è l'altro. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui l'altro. C. Poi ho fatto un altro mazzo. Mi riposo perché sono stanco. Qui ce ne sono altre due o tre. Qui ce ne sono. Uno. Due. Tre. Quattro. Qui ce ne sono un altro. Questo. E cinque. Qui ce ne sono piante. Qui ce ne sono. ecco qui devono attribuire la spara giù sono stanco uno e uno e devo riposare un po' guardia ha fatto un altro mazzo trovo un sasso e questo è un po' e questo è un po' e questo è un po' uno poi ci sono due tre quattro tre cinque sei questo l'ho già accorto sette qui dietro otto e nove ora 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 ce questo un altro e tutti due ecco un'altra spara che ho qui e un'altra un'altra ancora un'altra un altro e quindi un altro un altro un altro e quello e questo il numero Quattro e cinque. Un bello. Poi abbiamo un bello. Sei. Anche questo c'è un altro. Anzi, sono due. Tre. Uno. Due. 2, 3, poi c'è anche un altro di qua, e 4, ancora 2, un'altra 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 portrayed di quinta e un anche hanno un особo Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Qui se ne vede un po' meno. Vediamo qui che c'è una pianta. Qui c'è un po' meno. Qui c'è qualcosa. Qui c'è un po' meno. Qui c'è una pianta. Qui c'è un po' meno. Qui c'è un po' meno. Ciao.